benvenuti bentornati in una nuova mirabolante incredibile settimana in lega basket dove l'impossibile diventa possibile e dove tutto è anche contemporaneamente allo stesso momento pure il contrario di tutto e uno dice edo ma perché questa introduzione così no mistica così quasi criptica che 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 non si capisce bene però spiego io e perché perché nell'ultimi giorni è uscita una notizia che riguarda una lettera aperta che il presidente della lega basket gandini ha scritto al governo per sollecitare una risposta da parte del governo stesso l'allarme di gandini al governo l'assenza di indicazioni non ci permette di programmare la ripresa anche io quando ho letto della notizia bravo bravo gandi bravo vedi vedi che gandini ha bisogno di un po di tempo per per entrare un attimo no nella questione nel personaggio anche perché viene da tutto un altro mondo viene da un altro sport ci ha avuto bisogno di un po di tempo però poi una volta che ha capito da che parte di mondo è capitato e lì poi viene fuori tutta l'esperienza e la capacità del grande manager del grande anche businessman se fondiamo ha fatto una cosa buona ha sollecitato una risposta dal governo tra l'altro gli ha scritto noi come pallacanestro siamo il secondo sport italiano chiediamo di avere anche un po più di considerazione bravo 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 gandini soltanto che poi qualche giorno dopo è arrivata anche la risposta da parte del governo in particolare affidata al ministro spadafora ministro dello sport il quale dice richiedono esplicita approvazione i protocolli relativi alla ripresa delle competizioni degli sport da contatto e alla diata odierna non risulta pervenuto alcun testo a riguardo da parte di codesta federazione e cosa 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 vuol dire cosa vuol dire questa cosa qui in italiano in italiano corrente proprio parlato normalmente non vuol dire niente proprio non si parla in questo modo in italiano però però presa e tradotta cioè trasposta letteralmente dal politichese stretto all'italiano significa noi del governo non possiamo darvi una risposta perché non c'è arrivata nessuna idea su come poter ripartire da parte di codesta federazione cioè nello specifico in questo caso della FIP vale a dire la FIP non ci ha fatto sapere come intende far ricominciare la serie A quindi noi del governo non vi possiamo dire sì va bene quest'idea oppure no non va bene perché l'idea non c'è stata presentata anche polemista no classico polemista italiano quello che vuole sempre fare polemica direbbe ma come ma mi vai a sollecitare una risposta cioè scrivi per avere risposte più celeri e immediate a una domanda che non hai mai fatto cioè come è possibile però io non voglio fare polemica e sapete perché non voglio fare polemica uno dice non vuoi fare polemica perché non lo so siamo a luglio c'è il sole fuori è bel tempo oggi fa anche meno caldo rispetto al solico e magari sei preso bene non vuoi fare polemica no non è questo io non voglio fare polemica perché non abbiamo tempo per le polemiche e nonostante la lega abbia ribadito che non è così che siamo ancora nei tempi in realtà noi dobbiamo ancora preparare un piano di ripartezza l'abbiamo scoperto oggi presentarlo al governo e sperare che la risposta sia positiva perché se no non ci si mette proprio le mani capire se c'è qualche testata televisiva che è interessata a investire nel basket in serie A stabilire cosa ancora più importante quante e quali squadre prenderanno parte al prossimo campionato poi tra parentesi se tra le squadre del novero finale ci dovesse essere qualche squadra che ora non è presente nella lista attuale queste squadre avranno anche da recuperare tutto il mercato tutto il tempo che si sono perse perché si dovranno mettere in pari ma insomma questo è un altro discorso bisognerà poi capire se si riparte a porte aperte o a porte chiuse perché cambia partire a porte aperte e partire a porte chiuse avere la televisione o non avercela cambia per le casse delle società che nel frattempo dovranno anche poi far partire tutta la compagna abbonamenti e tutto il resto e poi ci sarà anche da gestire la questione delle eventuali quarantene per giocatori che rientrano in Italia da tutte le altre parti del mondo non c'è tempo per me non c'è tempo ma veniamo a noi questo è il tabellone come vedete stavolta per davvero ci sono tantissimi quadratini gialli anche perché è passata più di una settimana che è il periodo che normalmente intercorre tra un episodio e l'altro di questa serie sul mercato di Serie A e soprattutto ci sono diverse squadre che cominciano ad essere concluse ma ma c'entriamo c'entriamo Fortitudo Bologna in settimana è arrivata l'ufficializzazione di Mattia Palumbo io l'ho messo qui cioè guardia di riserva in realtà con ogni probabilità sarà il terzo playmaker cioè in cabina di regia ci saranno Fantinelli, Sabatini e Palumbo per il momento perché poi in settimana è venuta fuori anche una notizia su Travis Diner ma sinceramente la vedo improbabile tant'è che non l'ho messo neanche qua su tra i rumors dovrebbe mancare un solo nuovo innesto e il nome più caldo è quello di Thresham Fletcher qualcuno dice che potrebbe arrivarne anche un altro di giocatori magari un 4 o 5 in uscita dalla panchina perché non si sa quanti minuti potrà reggere Mancinelli c'ho dei dubbi, c'ho dei dubbi Virtus Bologna come sappiamo ormai da diverso tempo manca soltanto una tessera del puzzle a completare la squadra di Sasha Giorgevic e il nome buono dovrebbe obiettivamente a sto punto essere Josh Adams si sarebbe quasi alle firme stando alle voci che stanno circolando nelle ultime ore anzi con buona probabilità nel momento in cui vedrete questo video potrebbe già essere uscita qualche cosa al riguardo comunque Josh Adams dovrebbe essere il nome Brescia per la squadra di Vincenzino Esposito è stata una settimana direi molto interessante perché innanzitutto è stato firmato a Salvatore Parrillo che sarà, io qui l'ho messo un dicesimo, un dodicesimo più o meno questo dovrebbe essere il ruolo in squadra in più è arrivata anche la firma di Dujan Ristic il quale dovrebbe a questo punto in maniera definitiva e assoluta aver preso il posto di Tyler Kane in una telenovela che è andata avanti per tutta l'estate manca il 4, manca l'ala grande stante il fatto sempre, lo ripeto, che Christian Bars per ora, almeno per ora Vincenzo Esposito lo vede come il 5 di riserva inizialmente vi parlo di un paio di giorni fa il nome buono sembrava quello di Malcolm Thomas che poi è sfumato definitivamente si è parlato di TJ Klein come l'uomo ormai definito per prendere questo posto di 4 in realtà nelle ultime ore sta venendo fuori forte anche un possibile ritorno di Marcus Landry Brindisi, dopo l'acquisto di James Bell che torna in Italia dopo l'esperienza di Cremona la notizia della settimana è stata la firma di Derek Willis giocatore molto interessante che vi anticipo sarà probabilmente il protagonista del prossimo Focus o comunque se non del prossimo o di quello dopo è un giocatore molto interessante, un 4 fatto e finito, puro diciamo un ala grande vecchio stampo con ottime potenzialità ne abbiamo parlato però approfonditamente anche nella live di venerdì scorso quindi se nel frattempo nell'attesa foste interessati vi potete recuperare quella Cantù, in settimana è arrivata la firma, l'ufficializzazione di James Woodward che io con buona probabilità continuerò a chiamare per tutta la stagione James Woodward perché ormai sono abituato così nel frattempo sembra ormai fatta anche per il ritorno di Marty Lunen che sarebbe il grande veterano di questa squadra assieme a Jamie Smith proprio per quel che riguarda Jamie Smith in teoria sulla carta, nello scacchiere mancherebbe ancora un playmaker di riserva però in base a quello che si legge non è detto al 100% che venga preso anche perché lo stesso Woodward in teoria potrebbe giocare qualche minuto da playmaker aggiunto comunque da combo e quindi la squadra potrebbe anche essere chiusa qua Olimpia Milano la squadra di Ettore Messina è una di quelle che durante questa settimana ha chiuso ha completato definitivamente il roster in questo caso con l'arrivo ormai telefonato da tempo di Zach Lidei giocatore molto interessante anche lui protagonista di un prossimo focus è una squadra lunghissima, è una squadra infinita per come la vedo io, io i quintetti teorici le ho ipotizzate in questo modo Targeschi da Tome, Shields, Panter e Dileni titolari Heinz, Lidei, Mitzow, Rol, Rodriguez dalla panchina e Biliga, Brooks, Moraschini, Moretti e Cinciarini come terzo quintetto però ripeto, a parte che tutti questi giocatori possono giocare almeno un paio di ruoli praticamente tutti però poi Messina dovrà anche gestire il doppio impegno con l'Eurolega quindi questa è una situazione soltanto identificativa in ogni caso squadra al completo Pesaro, il mondo è stato accostato alla VL nelle ultime ore, negli ultimi giorni a un certo punto sembrava ormai fatta nella maniera più assoluta per Tommaso Baldasso e Tyler Kane in realtà stando alle ultimissime che sono uscite Tommaso Baldasso potrebbe addirittura rimanere a Roma e poi vedremo nello specifico il perché mentre Tyler Kane non è così detto che possa arrivare a Pesaro tant'è che sono usciti anche due nomi alternativi in realtà soltanto quello di Jordan Murphy è alternativo di Tyler Kane perché poi è uscito anche il nome di Chris Wright ma in questo caso sarebbe un ritorno per Pesaro e sarebbe anche il playmaker titolare ancora in bilico la situazione di Matteo Tambone Reggio Emilia, in settimana le firme di Carlo Porfilio giovanissimo sarà con ogni probabilità il dodicesimo della squadra e di Filippo Baldirossi giocatore importante come cambio dei lunghi in uscita dalla panchina ripeto, ancora in stand by la situazione di Tyler Kane nel frattempo è sfumato definitivamente Cassius Robertson lo dico perché sapete il legame personale affettivo che ho nei confronti di Cassius Robertson e poi ovviamente è stata la settimana dell'annuncio del ritorno in Europa da parte di Reggio Emilia il che fa anche ben sperare per il mercato e la chiusura della squadra nelle prossime settimane Virtus Roma allora, spendiamo un attimo due parole per chiarire questa situazione intanto il fatto che nel nostro pazzo campionato di Serie A sembrava che Cremona fosse quella favorita per riuscire in qualche modo ad iscriversi invece Cremona ha già fatto sapere che non ce la farà con ogni probabilità 99% a iscriversi al campionato invece sembrava che Roma fosse spacciata e oggi Totti se ne esce fuori con la notizia che qualora le operazioni di cessione della società non dovessero portare a nulla di nuovo potrebbe essere ancora lui per l'ennesima volta a farsi carico di tutte quelle che sono le pratiche di iscrizione e quindi anche di pagare per l'iscrizione della Virtus Roma al prossimo campionato non so quanto questo possa essere uno scenario felice nel senso che ok l'iscrizione ma poi c'è da fare la squadra e siamo già un pezzo in là col mercato e oltretutto poi c'è da rispettare tutti gli impegni durante tutta la stagione su questo Totti non pare essersi espresso al momento dal momento che l'idea, l'intenzione resta quella di voler vendere la società però questa è la notizia tant'è che sempre per bocca di Totti sarebbe stato blindato Tommaso Baldasso unico e ultimo al momento giocatore ancora al roster della squadra sono sparite le cordate l'imprenditore laziale, la cordata abruzzese, la cordata inglese non se ne sa più niente però al momento sembrano esserci delle schiarite quantomeno sull'iscrizione questa è la situazione Dinamo Sassari in settimana è arrivata l'ufficializzazione di Luca Gandini che di fatto chiude il roster a disposizione di Gianmarco Pozzecco non avrà questo grandissimo minutaggio sulla carta è la riserva di Mirobilan ma in realtà saranno Benzios e Treyer a cambiare i due lunghi con Tilman che può giocare anche buoni minuti da numero 5 la mia personalissima opinione che però non conta niente ormai lo sapete è che qualche cosina manca dalla panchina mentre sono molto soddisfatto del quintetto dice Gianmarco Pozzecco comunque al momento mercato chiuso quantomeno in stand by Trento in settimana sono arrivate le firme di Gary Brownie giocatore molto interessante ne abbiamo parlato anche in questo caso nella live di venerdì da non giudicare per le cifre, per le statistiche si candida ad essere un po' il leader quantomeno carismatico di questa squadra e poi la firma di Luke May giocatore che potrete analizzare nel dettaglio nel focus di questo video quindi al termine di questo video per quel che riguarda il resto del mercato pare esserci un pressing sempre più forte sempre più importante nei confronti di Michele Vitali conteso con altre squadre però all'estero ah e poi come mi facevano notare gli amici del Lonzone ci sarebbe anche da spiegare questo secondo hashtag alla foto pubblicata oggi Treviso, mercato chiuso già lo sapevamo io però vi avevo chiesto informazioni circa quelli che avrebbero dovuto essere i giovani per chiudere la rotazione quindi decimo, undicesimo, dodicesimo e compagnia i nomi che mi avete suggerito di più sono stati quelli di Vittorio Bartoli e Lorenzo Piccin quindi questa a tutti gli effetti dovrebbe essere la nuova Treviso di Max Menetti con David Logan in uscita dalla panchina sesto uomo extralusso della squadra Trieste, in settimana è arrivata la notizia ufficiale del prolungamento di Matteo Daros a questo punto manca soltanto un giocatore per chiudere la squadra la guardia titolare il nome forse più importante quello più noto, più conosciuto che è stato trattato è quello di Frank Gaines che ricordiamo è stato anche miglior realizzatore del campionato non più lontano di un paio d'anni fa con Cantù l'alternativa più quotata al momento sarebbe quella di Yavonte Hawkins Varese dopo il dietro front di Jason Rich che io ho lasciato ancora tra i rumors perché comunque non è stato scritto nero su bianco del nuovo acquisto di Varese ma ormai le chance di rivedere Jason Rich in Italia si contano sulle dita di una mano forse anche meno è arrivata l'ufficializzazione del prolungamento con Ingus Iakovics il giocatore che manca qua al 99,9% sarebbe Tony Douglas se volete un mio parere una coppia Rich-Tambone sarebbe stata più importante potenzialmente migliore rispetto a una coppia Douglas-Iakovics però sono due giocatori che conoscono l'ambiente e poi c'è Luis Scola che quest'anno in ogni caso sarebbe stato e sarà l'uomo immagine della squadra di Attilio Caia e qui veniamo al focus nuovi volti di questo video Luke May, nuovo acquisto dell'Aquila Basket Trento classe 1997, 23 anni, nativo del North Carolina 203 cm x 109 kg non è stato scelto al draft NBA del 2019 l'ultima stagione in NCAA 15 punti, 10 rimbalzi e 2 assist a partita con 43% dal campo e il 77% abbondante ai tiri liberi lo scorso anno invece in G League 11 punti e 7 rimbalzi con il 35% da 3 punti e un insolito 92% dalla lunetta come comparison a me viene in mente una sorta di versione mini di Alex Kirk ve lo ricordate? ex Pistoia in Serie A cioè un giocatore che offensivamente può fare quello che vuole qualsiasi cosa è un lungo però c'ha tiro da fuori c'ha movimenti in post basso sa mettere la palla a terra ha anche una buona visione per giocare da point forward o comunque da playmaker raggiunto è un giocatore che non ha limiti a livello offensivo rispetto ad Alex Kirk avendo un bel po' di chili in meno però resta un attimo da capire la situazione del ruolo perché in NCAA ha giocato prevalentemente dal numero 4 in Serie A potrebbe anche fare il 5 secondo me è un po' adattato ma soprattutto si va ad inserire all'interno di un reparto lunghi di Trento che al momento è composto da lui Dada Pascolo e Mezzanotte cioè tre numeri 4 in pratica uno di questi almeno uno di questi per forza doveva fare il numero 5 per il momento mi viene da individuare lui in attesa di capire come poi completerà il reparto lunghi la squadra di Brienza comunque Pascolo i suoi minuti li avrà si è detto e ridetto di voler puntare sulla crescita di Mezzanotte che nel frattempo mi si dice aver messo su anche un po' di chili e quindi anche lui potrebbe giocare magari dei minuti importanti da 5 l'unico dubbio che c'ho è proprio questo io credo che l'idea finale di Brienza sia quella di usare questi 3, 4 e mezzo chiamiamoli a cambiarsi da 5, da 4 in maniera più o meno indifferente è un giocatore di grande dinamismo di grande attività offensiva e difensiva è uno di quelli che secondo me è proprio tagliato precisamente per il nostro basket italiano ma anche europeo in più ultima nota così ultima chicca nota di colore chiunque di voi dovesse aver pensato ma io questo non l'ho mai visto non lo conosco in realtà si sbaglia tutti voi l'avete visto perché è niente di meno che e questo è quanto con ogni probabilità oggi siamo andati un po' lunghi questa settimana cambia un po' la programmazione perché il prossimo appuntamento col mercato sarà venerdì questa settimana sì ci saranno due episodi del mercato per tutto il resto non c'è certezza nel senso che domani sono mezzo intenzionato a far partire una nuova serie un nuovo format perché tanto ce ne abbiamo pochi e quindi ho pensato perché non farne partire un altro e poi c'è da piazzare la live e il gaming e quindi mercoledì e giovedì con ogni probabilità forse era più facile del previsto